Grazie per quello che avete fatto con noi, ringrazio per la pazienza dalla comunità che ha offerto questa struttura a tutta la regione, perché questo ha significato la fase Covid. Essere vicini a questa comunità, perché anche noi come generali siamo una comunità e volevamo essere vicini in questo modo. Nel periodo in cui abbiamo dovuto sospendere i lavori, la nostra direttrice, la fondazione Tutta, ci siamo chiesti che cosa possiamo fare per rimanere nel territorio e essere utili. Voi avete già risposto a questa domanda che ci siamo fatti e quindi siamo oggi qui felici di contribuire e ringraziare i generali per questo, perché ci auguriamo che possa essere veramente utile a coloro che ne hanno bisogno. Vi chiedo di unirvi al ringraziamento che noi come fondazione e come famiglia facciamo a coloro che ha donato e anche a chi ha trasporto veramente giorni e notti, perché Laura è in primis e tutte le persone che lavorano nella fondazione ci hanno veramente messo animo e corpo. In particolare Andrea ci spinge tutti i giorni a pensare che dobbiamo fare, nonostante che ci siano rischi e che sappiamo. Grazie a tutti.